Il capitolo infrastrutture e lavori pubblici è stato un capitolo molto importante in questo 2011, tanti lavori eseguiti dalla provincia. Sì, il più importante è naturalmente l'intervento che stiamo facendo sulla Pedemontana, sul tratto Sant'Anna-Floriano. Per un totale di lavori di 33 milioni di euro lordi, compreso di spese tecniche e tutto, siamo arrivati a circa il 50% tra due e due i lotti. Un lotto siamo già avanti al 67%, l'altro al 30%. Entro il 2012 un tratto e l'altro entro aprile 2013 i lavori dovrebbero essere completati. Questo è l'intervento più importante. Poi abbiamo fatto altri piccoli interventi, abbiamo portato avanti i lavori relativi ai 3 milioni di euro stanziati nel 2010 dall'Aggiunta Catarra. Abbiamo eseguito circa 2 milioni di euro di somme urgenze per l'alluvione con soldi propri, con interventi fatti direttamente dalla provincia con soldi propri. Siamo ancora in attesa comunque di questi fondi dell'alluvione che ancora arrivano. Siamo in attesa di quei 20 milioni annunciati che sono comunque delle risorse che vengono da soldi non spesi dai FAS 2000-2006. I residui di fondi FAS. Residui di fondi FAS. Quello per noi sarebbe veramente una boccata d'ossigeno non solo per noi come Pente Provincia ma anche per tutti i comuni e anche per i privati. Sono 20 milioni, è una somma importante, l'attendiamo ancora. Ieri sono stato un'altra volta a Roma. Speriamo nei prossimi giorni che ci siano notizie. Parlando della Pedemontana abbiamo letto di un problema rispetto all'otto, ma effettivamente i lavori andranno avanti? Sì, c'è stata una sentenza dove il giudice ha stabilito che nell'affidamento di questo appalto, si parla del secondo lotto che stiamo realizzando, per il quale abbiamo già eseguito lavori per circa il 65-70% dei lavori, è entrato nel merito dell'affidamento dell'appalto in merito ai bondeggi assegnati, ha chiesto una relazione da parte di una commissione che sarà nominata dalla provincia per le assegnazioni dei punteggi da parte della commissione precedente. Questo è un appalto. I lavori vanno avanti, non ci sono risarcimento nei confronti dell'impresa ricorrente. La provincia non rischia di pagare il doppio? Assolutamente, non è un problema.